barbie low on youtube with his lot with his lot now there is barbie low oggi unboxeremo le mie nuove cuffie perché se vi ricordate io prima avevo queste qua che sono non dico brutte perché comunque fanno il suo stile però sono vecchie si vabbè la qualità è comunque buona però calcolate sono grosse sono pesanti sono proprio pesanti fisicamente da tenere sono di quelle che ti stringono perché comunque a me leggermente stringono qua sopra non imbottito quindi comunque c'è si sente calcolando perché io ho iniziato a fare live io da un po di tempo ho iniziato a mettere queste qualche sono le cuffiette semplici semplici però tutto quello che vuoi non posso sempre tenere queste qua anche io quando gioco mi capito di fare qualche espressione sai le cuffie si allentano vedi c'è vedi se io faccio così tipo ah 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 c'è vedi mi è caduta la cuffia non è che io interrompo il gioco perché no mi devo sistemare la cuffia non è che mi tengo queste che sono scomodissime perché io io faccio live buono per un'oretta o due cioè dove qualcosa di comodo ecco perché ho preso queste qua che se vi interessano vi lascio in descrizione le pagate una decina di euro cuffie da gaming semplice sapete su amazon che si può come dire fai la domanda e poi chi l'ha comprata ti risponde ho fatto la domanda sono comode da tenere per molte ore stringono queste cose qua in molti mi hanno detto che sono comode sono leggerissime poi c'è uno che mi ha detto se sei abituato alle cuffiette tipo queste all'inizio le senti però poi ci abitui e sono comodissime quindi io ho ricevuto cinque risposte praticamente tutti quanti mi dicono sono comode sono comode sono comode sono sono leggere queste cose qua io si la qualità però è primo pezzo tolto va beh era la cosa di protezione poi poi va beh la scatola la tengo perché devo fare la copertina questo cos'è questo cos'è istruzione che mi servono istruzioni che personalmente per delle cuffie non è che sono poi poi togliamo questo poi ovviamente dobbiamo come dire allargarle questo coso ma lo tengo perché possiamo servire anzi io li metto tutti qua dentro in questa scatola nera possono servire che volete poi poi il cavo è anche bello lungo le cuffie vabbè poi ve lo faccio vedere bene però il bello che come dire si va bene vengono con il cavo jack che io metterò dietro al monitor perché vabbè se avete visto il video del monitor io il monitor dietro all'entrata comedia jack che vabbè li posso collegare delle cuffie o delle casse ma queste cuffie avendo anche un microfono che so boh per le videochiamate ho queste cose qua vi da anche un adattatore che schifo non fa vedete vi da questo adattatore audio e microfono che comunque schifo non mi fa anzi io cioè sì vabbè io non ho bisogno del microfono anzi penso che non lo utilizzerò mai anche per il fatto perché io io le andrò a collegare dietro al monitor e quindi funzionerà soltanto l'audio diciamo il microfono utilizzo questo qua vabbè queste qua me le tengo cuffie va bene cuffie che ovviamente devo allargare ovviamente il microfono va messo per forza da questa parte qua piccolo dettaglio vedete qua dietro qua dietro una piccola comedia manopola per il volume che è comunque schifo non mi fa che vi fa vedere che è andando verso il giù aumentate andando verso il basso diminuite vabbè però però le cuffie vabbè a parte che sono belle esteticamente poi si va bene voi vedete perché mo fanno così però è tutto un fatto che si devono come dire si devono come dire abituare anche le cuffie tipo come dire tipo quando dite tipo quando prendete le scappe nuove dite vabbè tanto poi si allargano piano piano tipo questo ecco io le metto posso dire sono comode sono comode si va bene poi giustamente anche un fatto di abitudine però però posso dire la mia sono molto comode sono comode sono molto comode anzi mo le vado a collegare al al monitor ok cuffie collegate al monitor mo mo ovviamente non ve lo faccio ascoltare però ascolterò come dire un po' di musica perché ovviamente non ve la faccio ascoltare perché è il copyright però giustamente devo sentire la qualità si 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 io posso confermare che se la rotella la porti verso sopra si abbassa se la porti verso sotto si alza audio pulito cioè io io se posso dire questa cosa audio pulito cioè non è ovviamente non è niente di eccezionale però calcola cioè dico calcola audio pulito queste qua vedete hanno due fili avendo due fili come dire capace che danno anche fastidio queste qua hanno soltanto un filo che si stasera in live come ogni sera su twitch seguitemi su twitch mi raccomando niente seguitemi su twitch tutti i giorni bella raga